Guarda, sulla questione della luna c'è anche un fatto culturale proprio. Pensa che noi abbiamo addirittura il proverbio, no? Quando c'è qualcosa che non funziona, no? Tu dici, cavoli, questa macchinetta del caffè non funziona. Siamo andati sulla luna e non funziona la macchinetta del caffè. È verissimo! Invece non siamo andati sulla luna. Ma il problema è che ormai lo abbiamo adottato come archetipo dimostrativo della nostra capacità tecnologica. Quindi andare a distruggere quello vuol dire andare a distruggere tutto quello in cui crediamo in Occidente. Ecco perché c'è una resistenza totale ad accettare anche solo la possibilità. Cioè tu dici che questa storia è proprio l'architrave? Beh, è un archetipo. È un archetipo? Sì, è un archetipo culturale. Cioè, appunto, siamo andati sulla luna, magari non ci siamo andati, ma allora crolla tutto. Allora non è vero che siamo così bravi tecnologicamente. Tra l'altro la questione veramente comica della luna, anche senza bisogno di entrare nei dettagli del mio film, ecco, quello che state vedendo è il set per far vedere quanto... Questo è Kubrick, no Massimo? Sì, è Kubrick. Anche questo, per esempio, è fatto in studio. Sembra un set meraviglioso di un pianeta. Se togli la proiezione posteriore, restano tre astronauti con quattro assassini in studio. Era per far vedere appunto come funziona la proiezione, la retroproiezione, per far sembrare appunto di essere su un pianeta enorme. Dicevo, è un fatto culturale, è molto difficile accettarlo. E quindi si resta attaccati perché uno dice, ma allora se mi hanno preso in giro sulla luna, mi hanno preso in giro su tutto. E molta gente non è che abbia quella grande preparazione psicologica per poter affrontare una verità così cruda. E allora preferisce negare, preferisce dire appunto, ah ma Zucco... Scusa Massimo, quando ti fanno l'obiezione, ma com'è possibile che così tanta gente ha potuto osservare questo segreto? Io gli rispondo che secondo me ho fatto dei conti e non servono più di 50 persone che siano d'accordo per fare una cosa del genere. Perché non è assolutamente vero che tutti, cioè io, tutti quelli che tu vedi nella sala di Houston che sfesteggiano accendono i sigari e fanno andare le bandierine quando avviene l'allunaggio, sono i primi a essere presi in giro, non sono complici. Cioè, quelli che gli mandano le immagini tradiscono prima di tutto i loro stessi colleghi della NASA. Quelli che hanno fatto questa operazione non sono più della cinquantina. E ovviamente questi ci tengono particolarmente a mantenere il segreto, perché è chiaramente una cosa che non potrà mai venire fuori. Però adesso, dicevo, che stanno cercando di tornarci e stranamente non ci riescono. È chiaro che la gente si è cominciata a demandare. Ma scusa, 50 anni fa siamo andati sei volte, nell'arco di tre anni, praticamente senza minimo problema. Sembrava la strada dell'orto che andavi a prendere carote e tornavi. E adesso tutti questi problemi continuano a rimandare, continuano a rimandare. Dovevamo tornare già nel 2004. Senti Massimo, scusami, esatto. C'è un amico che spesso mi ricordo una frase, adesso non mi ricordo la fonte precisa, ma dice, la più grande iattura per un mentitore non è tanto quello di non essere creduto, quanto di non credere più a quello che gli verrà detto. Cioè, un sistema fondato sulla menzogna è un sistema davvero molto fragile, Massimo. Purtroppo sì, ma è anche un sistema che diventa molto violento perché si rende contro il sistema che deve difendere la menzogna a tutti i costi. Ecco perché noi veniamo appunto catalogati, etichettati, messi da parte, non invitati da nessuna parte, eccetera, eccetera. In fondo voglio dire, un dibattito, ecco, guarda che schifezza, l'hai fatta col Domopac, il Lem, guarda che porcheria che sono riusciti a fare. Ci sono i pezzi di cartone, ma li avesse fatto mio figlio di 8 anni lo faceva meglio. Questa è la macchina che è costata 20 miliardi che è andata sulla Luna, renditi conto. Eccolo lì, 2200 miliardi, non so quanti sono nel 2006, 21 miliardi nel 2016 per costruire quella porcheria. Guarda che roba, sembra le tende degli immigrati e delle tendopoli. Ma che schifezza. Capisci che uno può anche sollevare un certo dubbio, può dire, ma scusatemi, spiegate? E invece no, non si può discutere, perché certi principi non si mettono in discussione. Sì, però poi oltretutto questa cosa a ricasco ha riguardato tutte le comunità, una nuova epica, perché ci ricordiamo Rugger Orlando, Tito Stagno, quante volte lo ricordiamo, quelle immagini storiche, eccetera. Cioè si sgretola tutto il sistema in questo modo? Ovviamente viene considerato un guastafeste, no? Ebbè, sì, è il termine minimo sicuramente guastafeste, che è il motivo per cui appunto, come dicevamo prima... Ma non hai mai provato, scusami la domanda anche probabilmente molto banale, sciocca, non hai provato dispiacere a demolire quel mito? Guarda, io sono nato il 20 di luglio, prima cosa, quindi è il giorno dell'allunaggio dal mio quindicesimo compleanno, e mentre allunava, no? O meglio, mentre il paese io vedevo i televisori accesi, io ho baciato la ragazza per la prima volta. Quindi tu immaginati che ricordo meraviglioso che avevo io da piccolo del 20 luglio del 69. Per me era un giorno mandato dagli dèi addirittura. Però poi purtroppo cosa è successo? Che sono diventato fotografo professionista. E da fotografo professionista ho visto dei piccoli problemi con quelle immagini. Tra l'altro ti dico un piccolo aneddoto. Io avevo fatto l'assistente di Toscani da giovane, avevo imparato da lui il mestiere. Quando vedi le foto della NASA, tutte pubblicate su internet negli anni 2000, chiamai Toscani, come stai, ciao, ciao. E gli chiedi, ma senti, cosa hai pensato tu la prima volta che hai visto le foto dell'emissione di Apollo? E lui mi rispose letteralmente, ho pensato che se le avessero fatte fare a me, le avrei fatte molto meglio. Questo è l'occhio purtroppo del fotografo professionista, il quale vede immediatamente che quelle foto sono fatte in studio. Il problema, casomai, è spiegarlo agli altri, far capire perché lo sono. Ma per i professionisti non c'è nessun dubbio. Tu vedi nel mio film Toscani, Lindbergh, che era uno addirittura ancora più famoso di Toscani, che è morto un paio di anni fa, gente che scoppia a ridere quando gli dici che quelle foto sono fatte senza luci aggiuntive, solo con il sole. Perché allora ti dicono, ma scusa, noi è 40 anni che andiamo in giro con gli assistenti, con i pannelli riflettenti, con le luci, con tutto, eccetera, eccetera. Adesso mi viene a dire che si possono fare anche senza niente, solamente con il sole, delle foto così ben illuminate in controluce. Non è possibile. Cioè abbiamo buttato via 40 anni di mestiere, 40 anni di carriera. E di fronte a questo, chiaramente, la fotografia è la parte più debole di tutte le missioni lunari. Sentiamo la telefonata. Intanto continuiamo a vedere queste immagini, ormai storiche, di questo film di Massimo Mazzucchi, American Moon, la luna americana. Pronto? Buondi, sono Paolo da Staranzano. Ringrazierei i canali Italia per questo angolo pubblico. Grazie. E Mazzucco per il suo lavoro. Straordinario. Allora, volevo chiedere a Mazzucco, secondo lui, viviamo in quest'era, spesso in questi ultimi anni, dove si scoprono molte menzioni a livello mondiale, cose molto importanti che hanno coinvolto tutto il pianeta. e in maniera così eclatante c'è stato un cambiamento, un brand. Adesso ci sono, specie con il Covid, ci sono state due situazioni, una chiamata dei complottisti, una dei mainstream dediti al sistema. Però mi chiedo sempre di guardare, oltre, già da anni guardavo trasmissioni che parlavano di un nuovo ordine mondiale, tutto sembravano cose fantascientifiche, però guardando da lontano le cose si vede che tutto porta lì. Sta portando, secondo me, a queste forze, questo triangolo che si nominava del vertice piramide e si vede che è sovranazionale e ha effettivo potere grandissimo. Sovranazionale. Grazie Paolo Dastaranzano. No, non ho finito. Volevo chiedere a Mazzucco se secondo lui vorranno, perché le bugie si fanno e le bugie però anche si scoprono, che arriveremo al punto che faranno a noi popolo buttare giù i governi? Se ci vuole questo a un certo punto. Grazie Paolo Dastaranzano. Massimo Mazzucco. Non credo che lo vogliano, magari succederà che a un certo punto l'umanità si stufa, me lo auguro, e butti giù il governo, non credo che sia la loro volontà. Rispetto al nuovo ordine mondiale, secondo me sì, certamente c'è una tendenza A, c'è una voglia D, chiaramente, è da 50 anni che c'è, da quando Kissinger scrisse il famoso memorandum 200 degli anni 70, dove si capiva chiaramente che loro puntavano a depopolare il mondo perché siamo troppi e c'è poco da mangiare, il succo era quello. Non vogliamo stare bene, vogliamo essere in pochi. Ecco, però c'è anche una crescita di presa di coscienza da parte dell'umanità, da parte di noi, gente normale, che combattiamo e respingiamo questo. Quindi io immagino, vedo la lotta come una specie di doppia curva, aumenta da parte la repressione da parte di chi ha il potere, ma aumenta anche la reazione e il fatto di respingerlo da parte di chi man mano prende coscienza di questi problemi. Quindi dobbiamo continuare a lottare. Se il senso della domanda era cosa possiamo fare, continuare a lottare come stiamo facendo, perché secondo me alla fine vinciamo noi. Certo, intanto stiamo continuando a vedere queste immagini. Certo che se è stata falsificata, è stata costruita in uno studio cinematografico, la vicenda più importante nella storia dell'uomo sulla Terra casca tutto, Massimo. Ovvio, è il motivo per cui chi difende le missioni lunari le difende a denti stretti, anche facendo delle figure barbine, perché sei obbligato. Lì per esempio questa cosa che stai vedendo sono i famosi meatbusters, che sono i debunker americani. I debunker? Chi sono i debunker, Massimo? Diciamolo. Sono gli smontatori, sono quelli che smontano... Le bufale, le fake, no? Le bufale. Smontano quelle che loro chiamano bufale, certo. Quindi questo è molto famoso, questo che stiamo vedendo in queste immagini. È attivissimo, è più famoso del Banco d'Italia. Attivissimo. Quindi praticamente lui ha tagliato i panni, voglio dire volgarmente, tagliato i panni addosso, cioè ha smontato le tesi dei tuoi film. Lui dice di aver smontato. Dice, dice. Ovviamente. Lui si è inventato il concetto di antibufala, dello scopritore di bufale, per cui stabilisce lui cos'è una bufala già in partenza e poi lui fa quello bravo, quello che sta dalla parte della scienza, che te la smonta. E questi qui fanno la stessa cosa. Peccato che proprio nell'esperimento che fate vedere, che stanno facendo vedere adesso, dove volevano smontare la storia dell'impronta lunare, non sono riusciti a replicarla. Cioè, ecco, vedi, fanno un'improntina che non è affatto come quella vera che è stata fatta sulla Luna. Perché in realtà quell'impronta non ci poteva stare perché non c'è umidità. Esatto. Invece, se tu guardi le impronte vere, delle foto lunari, vedi proprio questi rettangolini di fango. Come se avessero bagnato il terreno. Eh certo, perché l'hanno bagnato? Perché se in un studio altrimenti faceva polvere. Allora, perché questa cosa qui, nell'iconografia, nel racconto, nella nuova epica, come, diciamo, il 2001 di Sia nello spazio, no, di Stanley Kubrick, era, diceva, nella vulgata di Armstrong, un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l'umanità. Ecco, guarda quei segmenti di lì. Quella sabbia lì, senza umidità, lo puoi formattarla in quel modo. E quindi? E quindi vuol dire che se avessero in studio, che hanno reso la sabbia umida, e perché l'hanno resa umida in studio? Perché se avesse fatto polvere, la polvere restava sospesa e vedevi che eravamo sulla terra. Allora, per evitare la polvere hanno dovuto bagnare un pochino la sabbia, ma bagnandola hanno ottenuto questo risultato pietoso, guarda lì che roba. Cioè, non puoi senza umidità ottenere un'impronta del genere, ma neanche se mi paghi. Vedi la differenza, guarda. A sinistra è fatta in studio. Questa è senza umidità, a destra è con umidità. Proprio per il tipo di sabbia della luna? Ah, no, proprio perché se non puoi fare una forma così perfetta, quando fai le formine col secchiello, la sabbia deve essere bagnata. Se tu fai le formine con la sabbia asciutta... Non resta. ...so gli secchiello la forma si perde. Certo. Sentiamo che c'è in linea, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Paolo D'Arovigo. Smontiamo un po' il signor Mazzucco. Mi lasci... Ho 5-6 punti da chiarire. Mi lasci parlare, perché con Mazzucco ce l'ho abbastanza. Dica. A parte che con Mazzucco sono d'accordo tutto per la politica, per le cose lì, per i vaccini che non mi sono mai vaccinato, non credo che... Quella è una cosa a parte. Ma parliamo dello sbarco sulla luna. Sì. Dunque, non mi lasci dire queste cose, non mi interrompo. Le dica, le dica. Dunque, dove sarebbero finiti gli Apollo 5 alti 105 metri, visti partire da persona in luogo? Dove sarebbero finiti? Nel giardino di Kubrick? Le dica dove sono finiti? Costavano 1.300.000 dollari all'uno. Dove sono finiti? Dove era il KGB? Il KGB dove era? Se l'è venuto il KGB che ha fatto il suo studio di Kubrick... Le facce di banale... Aspetta Massimo, fai dire tutte le domande da Paolo e poi rispondi... No, no, ma non mi interrompo perché ne ho 4 o 5 di chi... Dica, dica in sintesi, dica. Faccia per favore. Prego. Dico anche le altre. Dica, dica, velocemente, è tutto. Ecco, le facce di banale... Sì, le facce di banale. ...perché vengono uccisi al momento... Sì. ...quanti che le passano in pochi minuti... E sono anche schermati... Le passano in pochi minuti... Non stanno lì a farsi friggere come nel microondale, appunto, a due ore. Ecco, le bandierine che non sventano... C'era un bastone che le teneva su... Che le teneva dritte... Non sventano, non si muovono. Le ombre, il gioco delle ombre... Le stelle che non si vedevano... Ma però, per me, c'è fuoco... Stop, Paolo. Stop. Scusi, ha messo insieme tante domande. Prego, Massimo. No, solo perché proprio non me ne ricordo più, se no... Allora, la prima. I missili che fine fanno? Allora, secondo la versione alternativa, partono normalmente nella capsula, restano in orbita sette giorni, si fanno crescere la barba e al momento giusto scendono. Nel frattempo mandano in onda delle immagini che sono state pre-registrate in studio. E la seconda era... E vedi che adesso me ne ricordo più. Ai russi, il KGB. Il KGB, sono stati così beoni? No, assolutamente. C'è un lungo capitolo nel mio film, adesso non posso in un secondo spiegarle tutto, ma c'è un lungo capitolo nel quale spiega perché non sarebbe convenuto ai russi denunciare il falso. Mi pare evidente, no? Erano nella stessa barca, no? Prima di tutto avevano degli accordi segreti nella nostra barca. E secondo avrebbero fatto la figura di quelli che lo sanno perdere. Con tutto il mondo che ha visto le immagini della luna... Questo è molto logico, Massimo, è molto logico. Scusami, mi incuriosisce molto questa cosa. Le bandiere sventolano come se ci fosse vento? Chiariamo bene la questione delle bandiere perché c'è molta confusione. Il problema delle bandiere non è come fa a stare su perché c'è la sticcina. Certo che c'è la sticcina. Il problema è che le bandiere in alcuni casi sventolano anche senza che nessuno le tocchi. Cioè nella maggior parte dei casi l'astronauta la sta toccando l'asta e quindi è normale che la bandiera sventoli o dondoli. Ma ci sono almeno tre casi, che ho trovato io, nei quali l'astronauta passa vicino alla bandiera, la bandiera fa un leggero sventolio e lì non l'ha toccata nessuno. Quelli sono i casi difficili da spiegare. Il fatto che stia su è chiaro che sta su perché c'è la sticcina. Scusami Massimo, stavamo vedendo delle immagini in cui, perché questa è una cosa che mi ha incuriosito moltissimo, ci sono dei movimenti fatti dagli astronauti che non sono possibili se non c'è un cavo che li tira su. La carrucola. Bisogna avere la fantasia di... Questi qui sono i riflessi... Questo riguarda dei riflessi che ci sono in alto che dimostrano che ci sono dei cavi che li sostengono. Vedi il primo riflesso in basso è l'antenna, il secondo più in alto, è il cavo che sostiene l'astronauta, per esempio. Aspetta, c'era ancora una domanda a cui volevo rispondere. Prego. Mi aiuti? Guarda chi c'è, guarda chi c'è, Leonardo. Sì, 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 adesso arriva Leonardo Falco, sì. Grande amico, piacere. Adesso non mi ricordo più... Cos'altro ci ha chiesto Paolo, ne ha unite molte di domande, comunque in gran parte hai risposto. Questa roba di cadi d'acciaio, devo dire che io non la conoscevo assolutamente, però c'è questo riflesso strano che non è l'antennina sul casco lì sulla... È più sopra, è sopra un metro e mezzo. E quello non può essere che è un cavo. Qui adesso proprio in alto, sopra più in alto, eccolo lì. Tac, hai visto quel lampo? Ho visto, perché praticamente fanno dei movimenti anche con le gambe che non è possibile li facciano loro spontaneamente. Uno non si riesce a risollevare, per esempio, a un certo punto dice non riesco ad alzarmi, no? L'abbiamo sentito questo. Sì, 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 sì. Quello riguarda appunto i movimenti che fanno, che senza i cavi è molto difficile farli. Ma se lì uno chiude gli occhi e con gli occhi della fantasia tu pensi che uno possa alzarsi anche in quel modo. Invece in certi casi appunto è proprio delle evidenze pratiche come queste. Però adesso a parte entrare nei dettagli tecnici, se no qui facciamo fuori tutta la trasmissione, diciamo che i problemi dei viaggi lunari, della versione ufficiale, sono talmente tanti. Eccolo qua. Questo è il movimento delle gambe. Qui fa il movimento con le gambe. Ecco, se non c'è qualcuno che lo tira su, ditemi come fa ad andare su così. Capisci? Certo. Lì è chiaro che c'è... Guarda, guardalo di nuovo. E i piedi scivolano da soli. Questo vuol dire che c'è un cavo e lui sta cercando di mettersi in equilibrio col cavo che lo tira su. Ma neanche Michael Jackson quando faceva Moonwalker, no? Infatti il moonwalk famoso nasce da qua, proprio così. Ecco. Insomma, questo è il lavoro di Massimo Mazzucco. Naturalmente noi siamo molto preoccupati in prospettiva di quello che potrà... Vista che si torna a parlare, ne parlava prima anche una telespettatrice, di un'altra pandemia, Massimo. Loro lo sperano. In tutti i modi faranno finta che ci sia io credo che non riusciranno a spandere neanche un decimo del terrore perché la gente non ne può più. Si è stufata e anche se solamente a livello intuitivo hanno capito che non ha presa in giro e tutte le volte che senti parlare di sì, ci sarà quel 10% che accorre a vaccinarsi ma non è più l'80-90% di prima, secondo me. Secondo me sarà un grossissimo flop e dimostrerà che alla fine il lavoro che tutti noi abbiamo fatto in questi tre anni e alla fine è servito a qualcosa. Che poi nel tempo Massimo Mazzucco abbiamo appreso, l'abbiamo capito, l'abbiamo saputo, non occorre neanche un corredo di prove ulteriori, che i servizi segreti americani, che la CIA finanzia Hollywood, finanzia Hollywood nei film, lo sappiamo che fa parte della propaganda. Se non la finanzia, comunque la controlla. Appunto. c'è un ufficio apposto della CIA. Esiste un ufficio apposito? Sì, sì, dove vanno mandate tutte le, ma è ufficiale, non è un segreto questo. Esatto. Dove vanno mandate tutte le sceneggiature, a parte le storielle d'amore, quelle non le mandi alla CIA, ma tutte le sceneggiature che riguardano in qualche modo la storia, la politica, i servizi segreti, l'FBI, la CIA stessa, eccetera, e la politica estera, devono avere tutte l'approvazione della CIA. Questo è il film sull'11 di settembre. Scusami, ho trovato, anzi, mi hanno segnalato la domanda in evasa, per così dire, del telespettatore di Rovigo, che è quella sulle fasce di Van Allen, che non è soltanto un gruppo di hard rock. Sì, no, no, ho capito, hai ragione, c'era anche quella. Lui dice l'attraversi di corsa, e puoi dire quello che vuoi, Van Allen, lo scopritore, quindi né Mazzucco, né nessuno di noi, ha detto che non si possono attraversare, lo ha detto lo scopritore delle fasce di Van Allen, ha lasciato scritto e ha detto, queste fasce rappresentano un pericolo mortale per gli uomini, o troviamo delle tecnologie per attraversarle, che ci permettono di farle in modo, oppure gli uomini... Cioè, senza finire fritti, come diceva il telespettatore, no? Non c'è bisogno di finire fritti, è chiaro che non è che friggi in tre secondi, ma le malattie che ti dovrebbero derivare dal fatto di aver preso le radiazioni, dovresti averle. Nessun astronauta ha avuto il cancro e è morto di cancro. Penso che sembra quasi che è una cura andare in mezzo alle fasce di Van Allen, ti fai passare magari il cancro, se ce l'hai lì ti passa, ci siamo al paradosso. Nessuno di loro ha avuto il cancro, ne ha la pelle, ne ha nient'altro. Ma poi soprattutto, per finire il discorso con quel signore, non è tanto l'attraversamento delle fasce di Van Allen, è che una volta fuori ci sono le radiazioni cosmiche, raggi gamma, raggi beta, raggi X, ce l'è di tutto e avevano, la capsula aveva uno strato di 3 mm di alluminio e basta. Lì è la vera frittura di polo. Ma scusami, ma la pellicola fotografica che hanno usato lì, come può non essersi contaminata? Non può, è un altro dei problemi. Non può, le pellicole non hanno il minimo segno di danno da radiazione. Io lo dico, lo so per esperienza personale, una volta, quando facevo proprio l'assistente a Toscani, per sbaglio, feci passare una valigia con i rullini già esposti dentro le macchinette dei raggi X dall'aeroporto, perché eravamo di corsa, quella andava fatta a passare fuori, andava spezzonata a mano. Io eravamo in ritardo, la misi dentro e ho rovinato tutto il lavoro. Un secondo di raggi X. Tu pensa a queste macchine fotografiche che stanno otto ore, otto ore esposte alle radiazioni di ogni tipo, raggi X, raggi gamma, questo è l'Oliviero Toscani intanto che esamina le fotografie. Infatti il responsabile aveva fornito la pellicola e le macchine fotografiche alla NASA disse io non mi spiego questo, non so cosa dire. A lui fanno la domanda sull'illuminazione e lui è talmente bravo che dice non lo so spiegare chiedetelo a Armstrong come ha fatto. Cioè pensa che risposta evasiva e intelligente insieme. Chi ho in linea adesso? Pronto chi parla? Pronto? Con chi parlo? Sono Mario De Cisena. Prego Manlio. Volevo dire abbiamo cominciato noi che Mussolini quando è venuto Inter qua in Italia ha detto madonna gli aeroplani che avete madonna i cararmati che li spostavano da Roma e li portavano su poi da su li portavano giù credevo che noi avessimo tanti aeroplani tutti quei cararmati che avevamo parecchi erano di cartone perché li avevano fatti di carta pesta madonna avete un esercito ha detto in mezzo del mondo sono tutti quei cararmati era tutta roba di cartone e allora quello che dice l'ospite lì io ci credo perché le bugie sono tutte bugie quello che mi dice le bugie mi ascolti? Sai la stiamo sentendo Manlio certo ah quello che racconta le bugie se le racconta bene le bugie ci credono grazie in realtà la definizione che diamo spesso a questa attività è propaganda no Massimo? è propaganda la bugia serve a coprire la propaganda esatto esattamente allora credo che sia arrivato anche Leonardo Facco ci sei Leonardo buongiorno? buongiorno buongiorno a voi buongiorno a Massimo hai visto che ospite straordinario quest'oggi? eccezionale il canale Italia sempre meglio con te e questo facciamo cerchiamo di non intropparci in quello che oggi viene definito banalmente anche pensiero unico ma offrire altre chiavi di interpretazione no? e credo che sia un elemento di salute mentale pronto? chi parla? sì buongiorno sono Lina sì è il telefono da Novara sì allora sono contenta anche che ci sia questo suo ospite sì grazie volevo dire no volevo dire io per l'allunaggio così mi ricordo che mio padre mi aveva chiamato ho detto vieni a vedere ed era non so le 1 o le 2 di notte però io non sono amante del cielo il cielo lo tengo sotto controllo solo quando ci sono i nuvoloni i temporali e i lampi per il resto non mi interessa il cielo ecco volevo dire una cosa visto che io partengo a una generazione visto che a Lili è un altro sacco che non ha fatto nessun vaccino sì siamo cresciuti sani senza fare vaccini abbiamo fatto soltanto il quello del vaiolo no sì che mi ricordo che a 6 anni ero in prima elementare ero andata da sola a scuola perché mia mamma ha detto non posso venire perché c'è tutto un fratellino che non sta bene sì sono andata da sola mi hanno tirato su le maniche era novembre e me l'hanno fatta sono andata a casa col mio col mio vaccino diciamo no sì per il resto io non ne ho fatte neanche uno e sto bene al di fuori diciamo le problematiche di una signora un po' conti hanno sole nelle gambe eccetera no sì per il resto vado vado e vado bene no io questa gente qua è compreso è compreso l'innominato perché l'innominato prima che mi fa vedere che il suo fratello è morto ma stato era amarsi eccetera eccetera no io no io sono stata chiuda tre mesi mi hanno obbligato no a non andare a pagare le bollette ma io le ho detto alla tabaccaia senta io dentro non posso venire ma lei può uscire sì allora prenda i soldi mi pagi la bolletta per andare al ristorante ma io ho avuto i miei problemi le mie ristrettezze andavo forse non so alla scala andavo a teatro da altre parti no andavo di sua parte allora se erano interessati di me loro l'unica cosa che mi hanno fatto è chiudermi chiudermi e basta grazie Lino Danovara grazie molto perché Leonardo perché è così importante il lavoro di Massimo Mazzucco secondo te perché è importante il dubbio per far crescere una coscienza critica è importante dubitare un grande comico americano morto due o tre anni fa a Carlin diceva che io non credo assolutamente a nulla di ciò che mi dice il governo e quando diceva governo intendeva dire potere il lavoro di Massimo Mazzucco è un lavoro straordinario perché permette proprio di avere dei dubbi ora qui non si tratta di io sapete che ho un aforisma mio io dico io non ho la verità in tasca ma ho la libertà in testa ecco avere la libertà in testa significa abbeverarsi a diverse fonti per avere un'opinione e non subire ad esempio quello che appunto viene chiamato pensiero unico da parte del mainstream quindi il lavoro di Massimo Mazzucco è un lavoro eccezionale anzi io devo dirti la verità sono dispiaciuto di averlo incontrato troppo tardi perché con la storia del complottismo di cui avete parlato un'oretta fa che effettivamente suona sempre come un'infamia io stesso a volte ritenevo che insomma assisti complottisti vedono sempre problemi ovunque no 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 in realtà io da studioso diciamo dalla libertà e del potere dello Stato delle leggi delle norme e della libertà in genere mi sono accorto appunto che ero io che sbagliavo ero io che sbagliavo perché davo per certo che alcuni personaggi non potessero arrivare a tanto l'operazione che io chiamo tragica farsa pandemica del covid secondo me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché ciò a cui abbiamo assistito ha dell'incredibile cioè io ho visto persone scienziati veri i medici veri che sono stati considerati dei reietti semplicemente perché hanno fatto a differenza degli altri molto bene il loro lavoro quindi in conclusione uno cento mille Massimo Mazzucco appunto e come dice Leonardo Facco con questo ti volevo congedare Massimo fatto salvo che magari se sei così disponibile gentile verso il pubblico nel Canal Italia sarà un piacere ritrovarsi presto qui in questa trasmissione insieme a me però quanto è importante come dice Leonardo lo strumento del cosiddetto beneficio del dubbio non è che è quanto importante essenziale 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 cioè se no non siamo più esseri pensanti diventiamo macchinette immagina sai quei quadri del 1500 dove mettevano l'imbuto in testa al poveraccio che andava curato ecco immagina che dentro con l'imbuto ti versano loro quello che tu devi sapere e dire questa sarebbe l'umanità che vogliono loro un'umanità col buco in testa dove tu gli versi dentro quello che vuoi attraverso la televisione e noi quel buco lo tappiamo e se possibile lo respingiamo anche indietro questo è fondamentale poi giustamente dice Leonardo non è detto nessuno può dire con certezza totale assoluta una verità piuttosto che un'altra ma almeno ragionarci sopra come diceva Dante fatti non foste per vivere come brutti ma per seguire virtute e conoscenza virtute e canascenza allora grazie grazie Massimo Mazzucco luogocomune.net e a presto su Canal Italia Massimo grazie infinite ciao ciao e complimenti per il tuo lavoro giustamente come sottolinea anche Leonardo davvero straordinario con chi parlo? pronto? buongiorno sono Antonio da Verona avrei voluto parlare con Massimo Mazzucco non so se ci sia ancora ti sei scollegato Massimo? no c'è ancora guardia Antonio dica pure in sintesi perché se c'è ancora Massimo io volevo dire quello che io sapevo della seconda guerra mondiale perché ho visto che lui ha fatto un piccolo escursus sopra Pier Harbor perché le informazioni che io posso avere esclusivamente da internet e lo prego se lui stanno chiaramente da quella di più di correggere sono la prima che negli Stati Uniti negli Stati Uniti gli americani erano favorevoli a Hitler per far cambiare questa idea semplicemente hanno fatto in maniera che la Germania dichiarasse guerra non viene assolutamente data nessuna allarga a Pier Harbor e da Pier Harbor vengono portate via le porte aeree perché loro volevano che gli americani avessero un bagno in faccia perché cambiassero idea erano prima favorevoli a Hitler è possibile grazie Antonio da Verona facciamo rispondere velocemente Mazzucco fuori busta la risposta veloce è questa non solo non gli americani ma alcuni americani erano favorevoli a Hitler c'era addirittura il partito nazista in America prima della guerra ma gli americani quelli che contano cioè il nonno di Bush per esempio sono quelli che hanno messo su il nazismo e lo hanno finanziato economicamente dall'America perché lo hanno messo su perché avevano paura di Stalin e quindi hanno creato loro il mostro che poi si sono ritrovati a dover gestire è una risposta molto rapida non possiamo andare nel torneremo però Massimo con la tua gentile disponibilità sarà un piacere grazie Massimo Mazzucco a risaluti a tutti in fondo Leonardo Facco American Moon l'11 di settembre la nuova Pearl Harbor tutti se vogliamo leggerli in questo modo esattamente come tu hai interpretato la pandemia il carognavirus come enormi esperimenti sociali sì assolutamente sì sono enormi esperimenti sociali fatti sulla pelle delle persone e qui si nota proprio il comportamento del potere del politico che non ha assolutamente nessuna pietà per le vite umane così come parlavate prima del fatto che gli americani sono intervenuti inventandosi le famose armi di distruzione di massa che non esistevano così come il caso per l'Arbor ancora oggi è ovviamente sotto la lente di ingrandimento il caso pandemia è stato la miccia che praticamente ha scatenato questo nuovo nuovo piano di ordine sociale e ordine politico che riguarda soprattutto l'Occidente perché è chiaro che ci sono delle spaccature nel mondo ci sono i VIX da una parte c'è il cosiddetto terzo mondo che comunque è marginale ma che per quello che riguarda il cosiddetto mondo civile il nostro Occidente che ha qualche secolo di storie che se vogliamo ha plasmato dal punto di vista delle idee gran parte del mondo ecco quelle sono servite per fare queste cose e purtroppo lo fanno sulla pelle delle persone e te lo dico perché l'ho vissuto in prima persona l'ho vissuto con familiari morti con amici morti con appunto come dicevo prima professionisti che venivano stigmatizzati nonostante facessero benissimo il loro lavoro con gente come noi noi dall'informazione che ovviamente vengono silenziati vengono fatti tacere non vengono ascoltati questo è un problema è un grosso problema perché noi siamo ancora nel pieno io ad esempio non l'unica cosa su cui dissento rispetto a Massimo che ha detto prima visto che tu gli hai parlato di una nuova pandemia io non credo come lui crede che le persone non ricadranno nel tranello tu invece sei pessimista no sono realista realista perché perché io sai frequento molto i luoghi che frequenta appunto la massa io vado al supermercato cammino ascolto non compro niente ma magari cammino ascolto quello che dice la gente vado al bar faccio finta di leggere il giornale ma in realtà ho l'orecchio teso ad ascoltare quello che dice la gente gioco a bocce sport popolarissimo è ormai in disuso ma vado per sentire e capire qual è l'umore delle persone e io ti assicuro al 100% che ancora oggi quando iniziano un discorso queste persone al bar la prima cosa che dicono è ciò che hanno sentito un attimo prima al telegiornale oppure al radiogiornale quindi nel momento in cui questi rimetteranno le loro forze a disposizione della nuova narrativa questa nuova narrativa continuerà ad essere tale per la maggioranza lo vediamo ad esempio con il caso Russia il discorso Russia-Ucraina se tu intervisti gli italiani per tendenzialmente il 70% il colpevole unico è Putin perché è l'aggressore l'invasore eccetera quando in realtà il documentario di Mazzucco lo spiega molto bene in realtà c'è una storia precedente che racconta cose ben diverse prima ho fatto vedere ascoltare Giuseppe Conte a Lampedusa sono vicino ai cittadini sono dalla vostra parte voglio rispondere alla vostra angoscia alle vostre paure alle vostre preoccupazioni eccetera e poi l'ho trasportato in questa specie di macchina del tempo che ci consente la tecnologia televisiva eccetera nell'archivio a quanto diceva quando era presidente del consiglio e ci ha chiusi in casa ai domiciliari per proteggere la nostra salute esatto esatto la menzogna era sempre lui? sì no no ma è sempre lui sentivo che prima parlavate appunto del fatto che la menzogna tendenzialmente è il filo conduttore della classe politica ed è così la menzogna è il filo conduttore della classe politica io nella mia vita ho fatto diversi errori uno di questi è stato quando 30 anni fa di avvicinarmi forse come tutti i giovani per via di un afflato rivoluzionario che tutti noi giovani abbiamo a parte i giovani di oggi che sono veramente delle amebe riprogrammate mi avvicinai alla Lega beh non c'era nulla di più rivoluzionario dal resto Canale Italia ha come sede diciamo il Veneto non c'era nulla di più rivoluzionario della Lega di fine anni 80 e 90 a parole beh oggi vediamo cosa è la Lega cioè è rappresentata da un personaggio semplicemente inqualificabile e tra l'altro non lo dico a Vanvera lo dico perché quel signore lì ha lavorato sotto di me io so chi è so come si comporta e so come la pensa a tal punto che probabilmente tu visto che tu che hai scritto una biografia non autorizzata Umberto Magno rivaluti Umberto Bossi no io non lo rivaluto Umberto Bossi no no non lo rivaluto assolutamente io penso di essere stato ma ci sta insomma ingannato da Umberto Bossi per quello che Umberto Bossi ha rappresentato è stato uno straordinario animale politico questo gli va riconosciuto un ottimo comunicatore per molti aspetti gli va riconosciuto il problema è un altro è che alle parole non sono mai seguiti i fatti anche i fatti politici e mettere in pratica fatti politici cioè idee politici quindi allora era l'idea di federalismo spinto oppure addirittura secessione avrebbe dovuto significare fare una vera e propria guerra allo Stato un confronto con lo Stato con tutte le amministrazioni locali che aveva eccetera e così via e non l'ha mai fatto è sempre sceso a compromessi dai tempi in cui fece il patto con D'Alema il famoso patto delle acciughe con D'Alema eccetera in avanti almeno fino a quando ha avuto l'ictus voglio dire Bossi si è sempre dimostrato un fanfarone poi è chiaro che quelle parole ancora oggi molti indipendentisti che sono poi pochissime quelli che ormai rimangono e non esistono suonano ancora come nettare ma in realtà voglio dire oggi le possiamo valutare con cognizione di causa e sapere appunto che facevano parte del mondo menzognero della politica allora sentiamo un attimo chi abbiamo in linea pronto? con chi parlo? pronto? si pronto sono Adriana D'Ariese da dove Adriana? D'Ariese Pio X D'Ariese Pio X si dove è nato il Papa si e dove torna peraltro se le celebrazioni no? lei sa che tornano le spoglie del Papa si bella roba come che ho bisogno solo di quello va bene facciamo stare e praticamente volevo fare i complimenti a Massimo Mazzucco per appunto il suo lavoro e dopo per altre praticamente cose che sta facendo dico solo questo allora abbiamo passato tre anni di circolazione di violenza e ci hanno tolto il lavoro ci hanno tolto la pensione ci hanno tolto i diritti ci hanno tolto tutto questo governo doveva fare cose mirabolanti non ha toccato i famosi cento euro di multa non se ne parla più e il famoso controllo di cosa è successo non se ne parla più e praticamente noi noi io lavoro in una RSA praticamente noi sono un OS praticamente noi OS non siamo mai nominati sono nominati medici infermieri ma guardate che il 90% del lavoro lo fa l'OS operatori sociosanitari non il medico o l'infermiere l'OS è la base di tutti i lavori sia in ospedale che in RSA in case di riposo io dico questo ci hanno rubato la vita per tre anni di questa psicopandemenza e le stanno continuando mi piacerebbe che intervistasse qualche OS non solo medici infermieri qualche OS grazie Adriana Larghese Pio X giustissimo gli OS sono operatori sociosanitari e a ragione non ne abbiamo praticamente mai parlato Leonardo sì certo senza dubbio sarebbero testimonianze interessanti comunque quello che è accaduto è accaduto per il semplice fatto che prima parlavate di piramide noi in fondo il potere lo possiamo immaginare appunto come una forma piramidale parte dal vertice e poi si espande verso il basso gli OS sono uno dei gradini insomma di questo potere per quello che riguarda il mondo medico però un OS in fondo cosa fa risponde ai suoi superiori a quello che dicono di fare i suoi superiori è chiaro che se noi abbiamo gli ordini dei medici tra cui quello italiano nazionale con questo Vanelli che a fronte del fatto che il dottor Massimo Citro abbia semplicemente esposto da persona qualificata quale è tra l'altro il suo punto di vista in merito al vaccino in un dibattito aperto e quindi un confronto con persone che la pensavano contro di lui come Galli per esempio sì esatto se l'ordine dei medici ne chiede appunto la punizione cioè chiede che venga allontanato chiede che venga fatta una puntata riparatoria di quel programma radio e tutto il resto addirittura interrogazioni parlamentari ci siamo messi male molto male molto male sicuramente un OS che è interessato a mantenere il suo lavoro e a guadagnarsi portarsi a casa allo stipendio l'ultima delle cose che farebbe certo tu sai Leonardo perché sei stato testimone di quello che mi è successo un giorno con Citro proprio col dottor Massimo Citro te lo stesso Massimo Mazzucco è un altro personaggio che adesso non voglio neppure nominare proprio per avervi invitato in confronto con lui mi ha minacciato di esposto all'ordine dei giornalisti è incredibile esatto quel fatto io tengo conservato il Whatsapp che mi hai mandato sì di minacce sì perché è una vergogna è veramente una vergogna quello che è accaduto tra l'altro quella trasmissione la si può trovare ancora in rete per fortuna io ce l'ho su uno dei miei canali odissi ed è la dimostrazione di come queste persone tra l'altro nella loro traccottanza nella loro prepotenza non accettano veramente il dibattito non accettano il dibattito con chi è qualificato e fa le domande come diceva Mazzucco prima fa le domande infatti cerca di far capire agli spettatori che non esiste solo un punto di riferimento e una sola idea o opinione ma esistono diversi punti di riferimento e lo spettatore poi si farà ovviamente la sua idea sceglie, decide chi c'è in linea? con chi parlo? pronto? chi è? buongiorno sono Andrea che telefono da con me dica Andrea scusa se mi lascio mezzo minuto sì certo dica pure caro sì io l'ho fatto naturalmente il vaccino l'altra volta e l'ho scritto sopra lì lo faccio perché lo dite voi e stavo binticciato con il merito lo mandai a fare il culo scusare il quadro della parola poi naturalmente adesso sta constatando che alcune persone dei supermercati come diceva Sacco fanno la passerella alcune signori importanti la passerella con la mascherina stavo dietro io dietro con la signora stavo arrivando lì all'altra moda di Milano ma cosa vuole lei da me? dice aspetta che la mascherina dice io chiamo il mio marito ma chiamo a chi cavolo vuoi? ma dico io sono questi che a noi ci manovrano ci comandano sono i caporali di giornata comprese comprese colte quelle che ha detto prima lei grazie Andrea grazie molte no se vuoi Leonardo che secondo me faremo soldoni a palate potremmo associarci per creare una vaffanculeria secondo me avremmo molti che ne dici? io ci sto non ho nessun problema ho mandato talmente tante volte a fanculo lo Stato e dove sotto il grande insieme Stato ci mettono tutti questi personaggi con i quali oggi combattiamo comunque una bella vaffanculeria secondo me avrebbe molto farebbe molto su molti affari faccio vedere un libro perché quando noi dice ma è possibile che ci sia una sorta di ne parlavamo con Massimo Mazzucco allucinazione collettiva e certo se lo storytelling è orientato in un certo modo esattamente come diceva Massimo si mettono l'imbuto in testa e ci cacciano dentro le cose che vogliono che noi acquisiamo no? a cui crediamo in modo supino acquiescente vi faccio vedere la copertina di un libro che ha smontato un mito qui c'è Guevara il comunista sanguinario la storia sconosciuta del mitologico mercenario autentico cos'è questa dissonanza cognitiva che noi vediamo questi ragazzi con la maglietta ma loro sanno non lo sanno sanno soltanto altre cose rispetto a quelle che racconta Leonardo Facco ma questo libro è veramente emblematico di come noi siamo indotti a credere quello che ci fanno credere Leonardo sembra un gioco di parole si guarda io dico sempre una cosa la narrazione è tutto la comunicazione è tutto ed è per quello che narrazione e comunicazione devono essere continuamente controbilanciate non è accettabile che non esista il dibattito perché senza dibattito non ci si possono formare non si possono formare delle idee delle opinioni dei punti di vista il caso del libro che hai citato è un libro che risale ormai a 13-14 anni fa insomma la prima edizione è la dimostrazione di come siamo di fronte ad un mito un mito che è organico alla situazione che stiamo vivendo oggi tra l'altro a questo nuovo ordine mondiale a questa egemonia culturale un mito che ovviamente è sostanziale per loro ed è intoccabile è intoccabile nonostante uno basta che si metta a fare ricerche come giustamente diceva Mazzucco io per scrivere quel libro ho impiegato sei mesi perché cinque mesi l'ho impiegato per fare ricerche e un mese poi per scrivere il testo ma volendo si possono trovare oggi è un po' più difficile perché con gli algoritmi google che cercano di nascondere determinate cose è pazzesco oggi fare ricerche anche in internet mentre una volta quando io lo scrissi sto parlando del 2008 quindi parecchio tempo fa bastava che tu mettessi tra virgolette determinate parole o determinate frasi e immediatamente arrivavi alle fonti ebbene quel libro è pieno di fonti che ci raccontano che il signor Che Guevara è stato un criminale sanguinario ci sono le testimonianze di lettere che mandava suo padre in cui diceva che lui era contento e felice di ammazzare la gente gli piaceva l'odore del sangue ci sono le testimonianze di quando lui all'ONU all'ONU e ci sono ancora i video che si possono far vedere tu l'hai fatto vedere una volta esattamente perché veniva messo in discussione da un telespettatore semplicemente che negava l'esistenza di questo video invece c'è all'ONU Che Guevara che parla a Palazzo di Vetro esatto parla al Palazzo di Vetro e dice noi abbiamo ucciso si abbiamo ucciso uccidiamo si uccidiamo uccideremo si uccideremo ecco voglio dire il caso Che Guevara è esattamente in piccolo insomma benché sia una figura importante l'emblema di quello che stiamo vivendo oggi cioè noi oggi viviamo dentro un mondo rispetto al quale esiste solo una narrazione per quello che riguarda il vaccino solo una narrazione per quello che riguarda le cune mediche solo una narrazione per quello che riguarda il clima solo una narrazione per quello che riguarda la guerra eccetera eccetera è nostro dovere sono veramente sempre orgoglioso di essere ospite tua grazie a te è nostro dovere comunque in qualche modo continuare a navigare contro corrente lo facciamo da una vita e continueremo a fare come diceva Fabrizio De Andrè in direzione ostinata e contraria passo questa telefonata e poi saluto Leonardo Facco arriva un ospite quello finale della trasmissione prima di Flavio pronto? con chi parlo? pronto buongiorno sono Laura e chiamo da Piemonte prego Laura allora scusate se forse sono un po' tardi perché non riuscivo a prenderla via dica parlavate dei vaccini? sì io non 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 dico di più perché non sono niente però quando io ero piccola sono nato un anno prima della guerra poi andavamo per le strade a giocare sì c'era un sacco di bambini nella mia città sì che hanno preso dopo gli un'elite sì non non ci lasciavano andare fuori a giocare perché magari erano ignoranti i nostri editori però perché dicevano ma sa quanti solo nel mio bordo ce ne saranno stati sei sì ho capito adesso non c'è più con il vaccino allora cosa dice Laura grazie Laura dal Piemonte intanto saluto Fulvio Abate filosofo scrittore che si collega con noi buongiorno Fulvio dovrei esserci spero ti sento benissimo ti vedo meravigliosamente anzi ti vedo ti vedo in splendida forma Fulvio ma insomma cosa voleva dire Laura cosa voleva dire Laura Leonardo e con questo rispendiamo velocemente che nella storia i vaccini hanno salvato l'umanità da terribili piaghe ma infatti guarda io e qui concludo appunto la questione vaccina è emblematica perché è un discrimine oggi io vengo additato come cosiddetto Novax anche se io ho conosciuto appunto i Novax sono persone serissime persone che fanno delle battaglie incredibili il problema è un a priori cioè qui non si tratta di essere a favore o contrario al vaccino per principio io non sono questa roba io sono a favore della libertà di cura a favore della libertà di scelta è questo il punto fondamentale che non è stato ammesso perché siamo arrivati addirittura all'obbligatorietà per poter lavorare cioè qui non dimentichiamocelo mai io non dimentico tutto quello che è successo negli ultimi tre anni che addirittura siamo arrivati al ricatto delle persone per poter lavorare o per poter andare a mangiare o per potersi muovere quindi il problema è questo dopodiché c'è la scienza io non sono uno scienziato non sono un medico non sono un biologo il problema è secondo me che si permetta a scienziati medici biologi ce ne sono a favore e contro la vaccinazione in generale che discutono e poi alla fine si permetta la libera scelta delle persone è tutto qui poi nessuno nega che il vaccino contro il vaiolo non abbia fatto non abbia avuto degli ottimi risultati nessuno nega che ne so il vaccino contro la polio magari abbia avuto degli ottimi risultati ma ciò che conta è che nessuno può negare il fatto che il sacrosanto diritto di proprietà sul proprio corpo è intangibile e questo loro stessi questi satrapi lo avevano detto e ridetto per decine di anni dopo ciò che è successo con il nazismo cioè con i dieci principi di Nuremberg e tutto il resto e con quello che faceva il dottor Mengele e sui corpi esatto e quindi è questo il punto fondamentale io non sto a discutere nel merito del vaccino chiarissimo Leonardo assolutamente il diritto di scegliere che è importante alla prossima Leonardo Facco grazie fondatore Movimento Libertario Fulbio Abate ha scritto questo è il suo libro più recente di scegliere